La prima vittima sei tu, no alle armi. In dieci mesi e mezzo sequestrate 671 armi più di due al giorno, 324 le persone arrestate o denunciate, 45 sono minorenni. In un poste realizzato dai carabinieri del comando provinciale di Napoli una sagoma di un giovane impugna una pistola e la punta simbolicamente contro lo specchio, contro l'immagine riflessa di se stesso. Nella violenza non ci sono vittime o carnifici, questa distinzione non regge. Il prodotto è stato realizzato dai militari della sala stampa del comando provinciale di Napoli in più colorazioni. Chi impugna un coltello o una pistola deve sentire il peso schiacciante di un gesto sconsiderato, folle e impulsivo. Chi preme il grilletto, ferisce con un fendente, inquina tante vite ma soprattutto la propria. La diffusione di questa immagine avverrà su larga scala, nelle scuole del territorio, nelle caserme, nei centri parrocchiali, nei teatri, nei cinema e in tutti i presidi di legalità della provincia. L'iniziativa ha trovato l'appoggio della Procura della Repubblica di Napoli, del Tribunale per i minorenni, della Prefettura, della Curia napoletana e farà d'apripista a tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione promosse dai carabinieri di Napoli per disarmare i più giovani. Tra queste anche la realizzazione di una brochure destinata alle scolaresche nella quale sono elencati consigli e indicazioni preziose per non finire preda del richiamo delle armi. Un modo per fiaccare le violenze che ogni giorno alimentano le cronache. Sono tante e nel bilancio del comando provinciale carabinieri di Napoli emerge ancora una volta un dato allarmante. Il periodo di riferimento parte dal gennaio di quest'anno e termina al 16 di novembre. 671 le armi sequestrate in ultimi 11 mesi circa, più di due al giorno. 324 le persone arrestate o denunciate per aver portato o usato un'arma di ogni genere, dal tirapugno al coltello, dalla pistola al mitra, 45 di queste non superano i 18 anni. Due le persone arrestate a Brusciano per detenzione di arma clandestina. Perquisiti sono stati trovati in possesso di Glock con matricola a brasa e 17 colpi nel caricatore. A 37 anni l'uomo che ha colpito dieci volte con una lama affilata alla moglie, forse per motivi di gelosia, è finito in carcere. La vittima da poche ore è stata dimessa dall'ospedale. Il 14 novembre scorso i carabinieri di Torre del Greco hanno arrestato un 22enne incensurato per aver colpito con un coltello un 37enne nel comune di Volla. E di qualche giorno fa la notizia di tre giovani denunciati lungo i vicoli di quartieri spagnoli, controllati in momenti e luoghi differenti, sono stati trovati in possesso di altrettanti coltelli. Il 26 ottobre scorso è stato arrestato un 17enne che avrebbe tentato di rapinare alcune turiste armato di coltello. Per lui le manette e la custodia cautelare in un istituto di pena minorile. Un 16enne napoletano bloccato dai carabinieri a Ischia poco prima di entrare in discoteca. Nelle sue tasche un coltello a serramanico di 22 centimetri. Una lama anche nei pantaloni di 14enne controllato dai militari in un parco di vertimenti di fuorigrotta. In manette questo è stato un 17enne per diverse rapine verosimilmente commesse ai danni di alcune coppiette del vomero. Nell'equipaggiamento del baby rapinatore uno scooter e un coltello, nel bottino invece cellulare e denaro. Ad Ottaviano per uno sguardo di troppo quattro persone, due di queste minorenni, colpirono con ferocia le vittime. Non solo pugni e calci ma anche bastonate con un manganello telescopico. Due 17enne finirono nelle maglie dei controlli dei carabinieri in via dei tribunali. A bordo di uno scooter e armati di coltelli seguirono una donna, probabilmente per rapinarla. Sono stati denunciati. Il generale Enrico Scandone, comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, sull'iniziativa. Quello delle armi tra i giovani è un tema che non abbandona mai l'agenda dei carabinieri. L'attenzione sempre alta e la stretta sinergia con l'autorità giudiziaria, prefettura e con le altre forze di polizia genera sempre più consapevolezza sul problema. Con questo poster abbiamo voluto parlare la lingua delle immagini per arrivare diretti ai ragazzi. E in questa immagine ho voluto che fosse latente quel senso di insicurezza che sollevano quelle mani armate. Una sagoma scura senza personalità che si scontra con un riflesso sfocato, con una lettura distorta di un gesto che porta solo guai. Abbiamo cercato di attribuire a quella figura un senso di insicurezza che si maschera di spavalderia. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro ma spietato. Se premi il grilletto, se tiri una coltellata, lo fai mirando prima a te stesso. La prima vittima sei tu che armi la tua mano.